Henry David Thoreau. La schiavitù nel Massachusetts. Di recente ho partecipato a un'assemblea di cittadini di Concord, convinto, come era diritto di chiunque, di poter prendere parola per discutere della schiavitù nel Massachusetts, ma sono rimasto stupito, scoprendo che i miei concittadini li riuniti erano interessati alle sorti del Nebraska e non a quelle del Massachusetts, e che quindi il mio intervento sarebbe stato completamente fuori luogo. Pensavo che ad andare in fiamme fosse casa nostra, e non una prateria lontana. Sebbene molti cittadini del Massachusetts siano al momento rinchiusi proprio qui in carcere, per aver cercato di salvare uno schiavo, nessuno degli oratori durante quell'incontro ha mostrato rimorso a riguardo, ne vi ha fatto riferimento. Sembravano interessati soltanto al decreto promulgato in una qualche terra selvaggia e lontana migliaia di miglia. Gli abitanti di Concord non sono pronti a prendere le parti di un loro vicino, ma sanno soltanto di squisire di una legge approvata negli altopiani oltre il fiume Yellowstone. I buttri che Davis e Osmer di oggi si stanno ritirando laggiù, e temo non per organizzare la resistenza. Non c'è in realtà un solo schiavo in Nebraska, ma ce ne sono forse un milione nel Massachusetts. Quelli educati alla scuola della mediazione politica, di fronte alla realtà, ora come sempre, rivelano il loro fallimento. Le misure che prendono sono mezze misure, dei semplici rattoppi. Rinviano a tempo indeterminato la soluzione che potrebbe essere definitiva, e intanto accumulano altre colpe. Sebbene la fuggitiva Slavelu non fosse all'ordine del giorno, ho poi scoperto che i miei concittadini hanno deciso, pur a fatica, durante un aggiornamento successivo di quella stessa seduta, che essendo il compromesso del Misuri del 1820 stato rifiutato da una delle parti, di conseguenza, la fuggitiva Slavelu doveva essere abrogata. Ma non è questo il motivo per cui una legge ingiusta andrebbe abrogata. I politici si sono semplicemente resi conto che conveniva loro smettere di rubare, ma senza ammettere di essere dei ladri. Dal momento che non ho potuto esprimere il mio pensiero in quell'occasione, spero mi sia concesso di farlo ora. Succede ancora una volta che il tribunale di Boston sia presidiato da uomini armati per tenere prigioniero un uomo, in attesa di capire se si tratti o meno di uno schiavo. Qualcuno pensa davvero che la giustizia, oppure Dio, aspettino la decisione di Mr. Loring con ansia? Standoli tranquillo a meditare non fa altro che rendersi ridicolo, la questione è chiara dall'alba dei tempi, e la risposta la conoscono e la comprendono sia lo schiavo analfabeta sia le masse fuori dalle mura del Palazzo di Giustizia. Siamo tentati di chiedere a Loring chi gli abbia conferito quell'incarico, e perché sia toccato proprio a lui, a che leggi fresche di stampa intenderà rifarsi e quali casi gli saranno utili come precedenti. Il solo fatto che qualcuno sia stato chiamato a giudicare una questione del genere è indegno. Dovrebbe semplicemente avere il buon gusto di levarsi di torno. Ho atteso una parola da parte del governatore e comandante in capo delle Forze Armate del Massachusetts. Ma ho udito soltanto il frinire dei grilli e il zio degli altri insetti che riempiono l'aria estiva. Il governatore è capace giusto a ispezionare le truppe il giorno della donata. L'ho osservato mentre in sella al cavallo, con il suo cappello in testa, ascoltava la preghiera del cappellano. Guarda caso è l'unica cosa che gli abbia mai visto fare. Penso che potrei tranquillamente farne a meno. Se non è neanche in grado di evitare che un essere umano sia ridotto in catene, con tutto il rispetto, a cosa può servirmi? Quando a essere davvero minacciata è la libertà se ne resta ben nascosto. Un illustre pastore mi ha confessato di aver scelto la sua professione perché era quella che gli avrebbe permesso di dedicarsi maggiormente alle belle lettere nel tempo libero. Avrei dovuto consigliargli di fare il governatore. Anche tre anni fa, quando andò in scena la tragedia di Sims, mi dissi, se esiste un pubblico funzionario, anche senza volerlo chiamare l'uomo, che occupa il ruolo di governatore del Massachusetts, dove è stato negli ultimi 15 giorni? Ha fatto il possibile per impedire questa catastrofe morale? Mi pare non ci possa essere ironia più affilata, né critica più feroce, del fatto nudo e crudo, la sua totale assenza durante quel periodo di crisi. Mi ha mostrato il suo unico lato, quello peggiore, evitando di uscire allo scoperto in un momento del genere, evitando di mostrare dignità. Avrebbe potuto almeno rassegnarsi a essere un personaggio pubblico. Pareva non ci fosse nessuno a occupare la sua carica. Eppure sono certo che lui se ne sia rimasto seduto sulla sedia da governatore per tutto il tempo. Una persona del genere non è il mio governatore. Non è colui che mi governa. Invece, in questo caso, il governatore si è fatto sentire. Dopo aver, insieme al Parlamento degli Stati Uniti, privato per sempre della libertà un povero nero innocente, e aver negato in ogni modo possibile che potesse essere fatto a immagine e somiglianza del creatore, il governatore ha tenuto un discorso ai suoi complici durante una cena di festeggiamento. Esiste una legge, da poco approvata nel nostro Stato, che prevede sanzioni penali per ogni funzionario del Commonwealth che detiene, o concorre alla cattura, ovunque entro i confini, di qualsiasi persona con l'accusa di essere uno schiavo fuggitivo. Eppure è noto a tutti che da queste parti non è possibile liberare un fuggitivo finito nelle mani di uno sceriffo degli Stati Uniti, perché l'autorità competente non ha abbastanza forza per far rispettare il decreto di rilascio. Pensavo che il governatore fosse in un certo senso il braccio esecutivo dello Stato, che fosse suo compito, come governatore, fare in modo che le leggi dello Stato fossero applicate, mentre in realtà se ne guarda bene, dimostrando, pur essendo un uomo, di non avere alcuna umanità. Non muove un dito salvo non siano in gioco i propri interessi personali, o, peggio ancora, talvolta si impegna perché le leggi dello Stato non siano applicate. Forse non sono ben informato sui suoi doveri, ma se per diventare governatore ci si deve mostrare così disonorevoli, dimenticando quanto ci rende umani, dovrò fare di tutto per evitare di essere eletto. Non conosco a fondo le leggi del Commonwealth. Sono una lettura che non vale la pena di fare. Non sempre dicono la verità, e non significano quasi mai quanto c'è scritto su carta. Quel che mi preoccupa è sapere che l'autorità di un uomo così rilevante si ponga a difesa dello schiavista e non dello schiavo, che sia dalla parte del carnefice e non dell'innocente, dell'ingiustizia invece che della giustizia. Non ho mai visto questa persona di cui parlo, e a dire il vero non sapevo nemmeno chi fosse il governatore finché non è accaduta la faccenda in questione. Ho saputo che è solo in merito alla vicenda di Anthony Barnes, e da quel momento ne sono, mio malgrado, venuto a sapere sempre di più. Mi ha governato per troppo tempo. Non voglio dire che ci sia qualcosa a suo discredito di cui prima non ero a conoscenza, sto solo dicendo che non ne sapevo proprio nulla. Eppure posso dire la cosa peggiore su di lui, non si è dimostrato migliore di quanto lo sarebbe stata la maggior parte dei suoi elettori. A mio avviso non è stato all'altezza del proprio compito. L'intero apparato militare dello Stato è agli ordini di gente come Mr. Suttol, uno schiavista della Virginia, in modo che questo individuo possa dare la caccia a un uomo che definisce di sua proprietà, ma non c'è nemmeno un soldato in servizio per evitare che un cittadino del Massachusetts sia imprigionato. Sono stati addestrati per questo tutti i nostri soldati nel corso di 79 anni di storia? Sono stati addestrati per depredare il Messico e riportare gli schiavi fuggiti ai loro padroni? Anche in queste notti sento il suono dei tamburi per le strade. Addestrano altri uomini, e per cosa? Posso perdonare i galli quando non la smettono di cantare, perché forse non li zittiscono a dovere, ma non perdono il rataplan dei tamburi degli addestrati. Gli schiavi sono fatti prigionieri da gente del genere, da soldati di cui il meglio che si possa dire è che sono degli sciocchi adornati da una divisa scintillante. Anche tre anni fa, solo una settimana dopo che le autorità di Boston avevano unito le loro forze per costringere a tornare schiavo un uomo completamente innocente, pur sapendolo benissimo. Gli abitanti di Concord hanno suonato le campane a festa e hanno sparato a salve colpi di cannone per festeggiare la loro libertà, per celebrare il coraggio e l'amore per la libertà dei loro antenati che avevano combattuto la battaglia a difesa del ponte cittadino. Come se quei tre milioni avessero combattuto per il diritto di essere liberi riducendo però in schiavitù altri tre milioni di persone. Oggigiorno, gli uomini indossano un cappello da buffoni, e lo chiamano il cappello della libertà. Non ne sono certo, ma forse ci sono alcuni uomini che anche incatenati a un palo e sul punto di essere frustati, se avessero una mano slegata la userebbero per suonare le campane e dar fuoco ai cannoni, celebrando quella loro libertà. È questa la misura di quanto sono liberi, quando il suono delle campane svanisce, svanisce anche la loro libertà, quando tutta la polvere da sparo è bruciata, la loro libertà la porta via il fumo. La beffa non potrebbe essere più grande, è come se fossero i detenuti di una prigione, che dopo aver provveduto a caricare i fuochi d'artificio per le celebrazioni, assumono i loro carcerieri per dare inizio alla festa, godendosi lo spettacolo da dietro le sbarre. È così che vedo i miei vicini. Ogni abitante di concordo umano e intelligente, uomo o donna che sia, sentendo quelle campane e quei cannoni, non ha pensato con orgoglio agli eventi del 19 aprile 1775, ma con vergogna ai fatti del 12 aprile 1851. Adesso però abbiamo quasi sepolto quella passata umiliazione con una nuova. Il Massachusetts ha atteso tranquillo la decisione di Mr. Loring, come se potesse in qualche modo scagionarlo dalle sue colpe. Il crimine, il più evidente e disastroso di tutti, è stato permettergli di essere arbitro in un caso simile. È stato l'ultimo appello per il Massachusetts. Ogni istante che ha esitato nel rendere la libertà a quello schiavo, ogni istante in cui oggi esita nel fare ammenda per il proprio crimine, rivela la sua colpevolezza. A giudicarlo è Dio, non il Dio, Edward G., ma soltanto Dio. Vorrei che i miei compaesani riflettessero sul fatto che, qualsiasi sia la legge degli uomini, un individuo o una nazione non potranno mai commettere un'ingiustizia, anche contro l'individuo più discutibile, senza pagarne le conseguenze. Un governo che intenzionalmente si comporta in modo ingiusto, e persiste nel suo atteggiamento, alla lunga diventerà lo zimbello del mondo. È stato detto molto riguardo alla schiavitù in America, ma credo che ancora non abbiamo nemmeno compreso cosa sia in realtà la schiavitù. Se io proponessi seriamente al congresso di far salsicce con gli esseri umani, sono sicuro che ne sorriderebbero, oppure, credendomi sincero, penserebbero che stia proponendo una cosa di gran lunga peggiore di quanto mai approvato dal congresso. Ma se qualcuno di loro mi dicesse che fare di un uomo una salsiccia sarebbe peggiore, tanto o poco non importa, di renderlo schiavo, direi che lo sta affermando solo per giustificare la fuggitive slave law, e lo accuserei di idiozia, di inettitudine intellettuale e di fare dei distingo pretestuosi. Sono due proposte che denotano lo stesso buonsenso. Ho sentito che saggiamente qualcuno suggerisce di calpestare questa legge. Farlo non costerebbe alcuno sforzo. Una legge del genere non è degna di stare all'altezza delle menti e della ragione, il suo habitat naturale è la sporcizia che c'è in terra. È stata concepita, è cresciuta e può sopravvivere solo nella polvere e nel fango, a livello dei piedi, e chi cammina libero, senza evitare con misericordia in due di calpestare ogni serpente velenoso, ci passerà sopra schiacciandola, e insieme schiacciando Webster, il suo promulgatore, come quando si schiaccia uno scarabeo stercorario rompendo prima il suo carapace. Ciò che sta succedendo oggi potrà essere preso da esempio in futuro per criticare il nostro esercizio della giustizia, oppure, in alternativa, per mostrare quanto possa imporsi la giustizia all'interno di una comunità. È per questo motivo che gli amici della libertà, gli amici degli schiavi, hanno sentito correre un brivido lungo la schiena quando hanno capito che saremmo stati giudicati dai posteri per una decisione presa da un tribunale. Gli uomini liberi non credono che la giustizia possa prevalere così, il giudice può decidere in un modo o nell'altro, ci si affida comunque al caso, nella migliore delle ipotesi. Su questioni tanto importanti è evidente che un tribunale non sia l'autorità competente a decidere. Non si tratta infatti di formulare un giudizio sulla base dei precedenti, ma di fondare un precedente per il futuro. Mi fiderei di più del sentimento del popolo. Il suo voto avrebbe almeno un qualche valore, per quanto piccolo. Ma così facendo, invece, il giudizio è quello limitato di un solo individuo, e qualunque sia non avrà alcun valore. In un certo senso è disastroso quando il popolo è costretto ad accodarsi alle decisioni dei tribunali. Non voglio dire che le corti siano fatte per discutere del tempo, e soltanto per le mere questioni civili, ma pensate cosa significa lasciare che sia un qualsivoglia tribunale del paese a decidere su questioni come la libertà di tre milioni di persone, un sesto della nazione. Ed è andata così, il giudizio è stato lasciato alle cosiddette corti di giustizia, alla Corte Suprema, e, come tutti sappiamo, fondandosi su nessun'altra autorità al di fuori della Costituzione, è stato deciso che tre milioni di persone sono e dovranno continuare a essere schiave. Giudici del genere non fanno che ispezionare gli attrezzi dei ladri e degli assassini, valutano se funzionano bene per rubare e uccidere e credono che la loro responsabilità finisca qui. Tra i precedenti utili per prendere una decisione riguardo alla schiavitù ce n'era uno che, come giudici nominati da Dio, non avevano il diritto di ignorare, e che li avrebbe salvati dalla vergogna, l'omicidio. La legge non renderà mai gli uomini liberi, sono gli uomini a dover mantenere libera la legge. Sono i sostenitori della legge e dell'ordine che la osservano davvero quando è il governo a romperla. Tra gli esseri umani, il giudice le cui parole imprimono un sigillo sul destino di un uomo per l'eternità non è quello che parla a nome della legge, ma colui che, chiunque sia, esprime un'opinione sincera, una sentenza dettata dall'amore per la verità e non condizionata dalle abitudini e dalle opinioni di nessun altro, colui che sentenzia per se stesso. In qualsiasi modo giunga alla sua verità, ha ricevuto comunque il mandato da un'autorità più alta di quella di ogni giudice, che può dirimere solo la legge. È strano che sia necessario riaffermare certe ovvietà. Io sono sempre più convinto che, riguardo a tutte le questioni di natura pubblica, sia più importante conoscere l'opinione di chi vive ai margini rispetto a quella di chi vive al centro. Il centro non ragiona molto. Su ogni questione morale preferirei avere l'opinione della sola Boxborough rispetto a quella di Boston e New York messe insieme. Perché ascoltando la prima sento che a parlare è stato qualcuno, come se esistesse ancora un'umanità e un essere umano di buonsenso ne avesse fatto valere le ragioni. Come se qualche uomo privo di pregiudizi tra le colline del paese avesse rivolto il suo sguardo verso il problema, riscattando la reputazione della sua razza con poche parole ragionevoli. Quando in qualche remoto paese di campagna i contadini si riuniscono per un incontro straordinario della cittadinanza, per esprimere un'opinione su qualche problema che affligge la loro nazione, credo sia quello il vero congresso, il più rispettabile che sia mai stato convocato negli Stati Uniti. È evidente che in questo Commonwealth vi siano, come minimo, due fazioni, che si allontanano sempre di più, la fazione della città e quella della campagna. So che la campagna è un luogo meschino, ma sono felice di credere che sia leggermente meglio della città. Eppure la sua voce non trova quasi mai spazio. Gli editoriali e le notizie arrivano dalla costa. Lasciate a noi abitanti delle campagne la possibilità di avere rispetto di noi stessi. Non costringeteci a vendere alla città, oltre ai tessuti grezzi e ai generi alimentari, qualcosa di più essenziale, e anche se leggiamo le opinioni cittadine lasciateci formulare le nostre. Tra le misure da adottare suggerirei un attacco giudizioso ma deciso alla stampa, così come già fatto, in modo virtuoso, con la Chiesa. La Chiesa è migliorata molto in pochi anni, ma la stampa è quasi tutta, senza eccezioni, corrotta. Credo che, in questo paese, la stampa eserciti un'influenza più pesante e nociva di quella esercitata dalla Chiesa durante i suoi periodi più bui. Non siamo un popolo religioso, ma siamo una nazione di politici. Non ci interessiamo alla Bibbia, ma ai giornali. A un incontro politico, come quello avvenuto a Concord l'altra sera, per esempio, quanto sarebbe sfacciato citare la Bibbia? E quanto invece è estremamente appropriato citare un giornale o la Costituzione? Il giornale è una Bibbia che leggiamo tutte le mattine e tutti i pomeriggi, in piedi o seduti, in carrozza o mentre camminiamo. È una Bibbia che ciascuno tiene in tasca, che giace su ogni scrivania e tavolo da lavoro, dispensata per posta e da migliaia di missionari. In sostanza è l'unico libro davvero stampato in America, l'unico che l'America legge. È questa l'enorme influenza che esercita. Gli editori sono predicatori che supportiamo volontariamente. La tassa costa di solito un centesimo al giorno, e non si deve affittare nemmeno una panca. Ma quanti di questi predicatori dicono la verità? Mi rifaccio alla testimonianza di molti cittadini stranieri intelligenti, oltre che alle mie convinzioni, quando dico che nessun paese è mai stato governato da una classe di tiranni tanto squallida come lo sono, con poche nobili eccezioni, gli editori dei quotidiani nel nostro paese. E siccome queste figure vivono e comandano grazie al loro spirito servile, assecondando il peggio e non la natura migliore degli uomini, le persone che li leggono sono messe nella condizione del cane che torna al proprio vomito. Il Liberator e il Commonwealth sono stati gli unici giornali di Boston, per quel che ne so, ad aver alzato la voce condannando la miseria e la codardia delle autorità cittadine nel 51. Gli altri, quasi senza eccezioni, nel modo di riferirsi e parlare della fuggitiva slave lue e della cattura dello schiavo Sims, hanno come minimo insultato il buonsenso comune del paese. E verrebbe da dire che si comportano così perché credono di compiacere chi li controlla, indifferente al sentimento profondo che prevale ovunque nei cuori del Commonwealth. Mi dicono che alcuni hanno addolcito, con il tempo, la loro posizione, ma restano comunque opportunisti. Questa è l'immagine che hanno dato di loro stessi. Ma, per fortuna, questi predicatori possono essere raggiunti più facilmente dalle armi dei riformatori rispetto ai codardi uomini di chiesa. Le persone libere del New England devono solo evitare di comprare e leggere questi fogli, devono risparmiare i loro centesimi, per farne chiudere immediatamente un bel po'. Un uomo che rispetto mi ha detto di aver comprato una volta il «Citizen» di Mitchell, essere salito sulla carrozza e averlo subito gettato dal finestrino. Ma non poteva esprimere meglio il suo disprezzo non comprandolo affatto? Sono americani? Sono del New England? Sono gli abitanti di Lexington, Concord, Framingham, a leggere e supportare i giornali di Boston come il Post, il Mail, il Journal, l'Advertiser, il Courier e il Times? Sono questi i baluardi della nostra unione? Non essendo un lettore di giornali, potrei aver dimenticato di nominare i peggiori. È stata la schiavitù il punto più basso del servilismo esibito da alcuni di questi giornali? Possono raccogliere altra sporcizia e rendere ancora più marcia la melma in cui si rotolano? Non so se il Boston Herald esista oggi, ma ricordo di averlo visto circolare per le strade quando Sims è stato restituito alla schiavitù. E non ha fatto bene la sua parte, servendo fedelmente il suo padrone? Come potrebbe scendere più in basso? E come può un uomo mettersi a quel livello? Cosa può fare oltre a mettersi le parti basse al posto della testa? Forse mettersi la testa al posto delle parti basse? Quando mi sono chinato per raccogliere questo giornale da terra, con le maniche tirate su per non sporcarmi, ho sentito provenire da ogni colonna il gorgoglio della fogna. Sentivo di aver preso quelle pagine da un canale di scolo, una pagina dal Vangelo della Casa da Gioco, una da quello del bar più sordido, un'altra da quello del bordello, il tutto in armonia con il Vangelo del libero mercato. La maggior parte degli uomini del nord e del sud, così come dell'est e dell'ovest, non sono uomini di principi. Se votano, non mandano i candidati al congresso sulla base della loro umanità. Mentre i loro fratelli e sorelle sono flagellati e appesi per amore della libertà, potrei aggiungere il resto degli orrori che la schiavitù comporta ed essenzialmente è, quel che interessa loro è la cattiva gestione del legno e del ferro, delle pietre e dell'oro. Fa ciò che vuoi, o governo. Fa ciò che vuoi di mia moglie e dei miei figli, di mia madre e dei miei fratelli, di mio padre e delle mie sorelle, obbedirò al tuo volere alla lettera. Potrò anche piangere se farai loro del male, se li consegnerai ai carcerieri perché siano sbranati dai cani o frustati a morte, comunque non abbandonerò il mio sentiero su questa terra giusta, fino a quando forse, un giorno, dopo aver indossato il lutto per la loro scomparsa, sarò forse riuscito ad addolcirvi. Così si comporta il Massachusetts, queste sono le sue parole. Piuttosto che comportarmi così, è inutile dire che darei fuoco a una miccia, farei saltare il sistema, ma siccome amo la mia vita, rimango dalla parte della luce, lascio che l'oscurità della terra scorra via sotto di me, e chiamo al mio fianco mia madre e i miei fratelli. Vorrei ricordare ai miei concittadini che bisogna essere prima uomini, e poi, solo al momento giusto, americani. Non importa quanto sia preziosa la legge che protegge la vostra proprietà, una legge può anche legare insieme anima e corpo, ma non ha valore se non vi lega all'umanità. Mi dispiace dirlo, ma dubito che ci sia un giudice nel Massachusetts disposto a dimettersi, e a condurre una vita innocente, pur di non far eseguire una sentenza sulla base di una legge contraria a quella di Dio. Invece sono costretto a vedere come si adeguano, o magari lo fanno perché ci credono davvero, comportandosi esattamente come il soldato che spara in qualsiasi direzione gli sia ordinato. Ormai sono più strumenti che uomini. E, di certo, non meritano un rispetto maggiore perché i loro padroni non controllano i loro corpi, ma le loro coscienze e la loro facoltà di giudizio. I giudici e gli avvocati, nell'esercizio della loro funzione, e tutti gli uomini dei quali sono in gioco gli interessi, guardano a questa situazione con dei mezzi inadeguati e miseri. Non valutano se la fuggitive slave lo sia giusta, ma se sia, come dicono loro, costituzionale. È costituzionale la virtù o il vizio? L'equità o l'ineguaglianza? Riguardo a una questione morale di vitale importanza è semplicemente un'insolenza chiedersi se una legge sia o meno incostituzionale, se sia conveniente oppure no. Così facendo continuate a servire gli uomini peggiori, e non l'umanità intera. Qui non si tratta di valutare se voi, oppure vostro nonno, abbiate stretto un patto con il diavolo settant'anni fa, e se dunque vada onorato. Si tratta invece di decidere adesso, una volta per tutte, di servire Dio, al di là di qualsiasi vergogna vostra o dei vostri avi, obbedendo all'unica ed eterna costituzione che lui, e non Jefferson o Adams, ha scritto dentro di voi. E invece se la maggioranza elegge il diavolo per occupare il posto di Dio, la minoranza continua a vivere come prima e si comporta di conseguenza, obbedendo al candidato vincente e sperando che prima o poi, grazie a una mozione di sfiducia, si possa reinsediare Dio. È il principio più alto che posso dire, o immaginare, animi miei vicini. Questi uomini agiscono convinti di poter scivolare tranquilli giù da una collina seguendo una strada poco trafficata, o in buone condizioni, ritrovandosi poi sicuramente in un posto dal quale sarà facile risalire dove erano prima. È opportunismo, scegliere il percorso che offre minore fatica per le gambe vuol dire iniziare una discesa senza via d'uscita. Ma non c'è modo di ottenere una riforma giusta col opportunismo. Non c'è modo di risalire. Nelle questioni morali chi scende una volta non può far altro che continuare a cadere più in basso. Perciò adoriamo regolarmente mammona, e scuola, stato, chiesa ma le dicono ogni giorno Dio con un frastuono che si leva da un capo all'altro dell'unione. Il genere umano capirà mai che la politica non è il campo della moralità, perché non si cura di quanto è moralmente giusto, ma prende in considerazione solo ciò che è conveniente. Perché avvantaggia i candidati più propensi ad assecondare la convenienza, ovvero, inevitabilmente, il diavolo? E quali diritti hanno poi gli elettori di lamentarsi se il diavolo non si comporta come un angelo della luce? Ciò che serve non sono uomini politici ma uomini onesti, che riconoscano una legge più alta della Costituzione o delle decisioni della maggioranza. Il destino del paese non dipende dalle elezioni, il peggiore degli uomini è il più bravo a vincere in quel gioco, non dipende dal pezzo di carta che metterete dentro l'urna una volta l'anno, ma dall'uomo che deciderete di essere quando uscite di casa ogni mattina. Quel che dovrebbe interessare al Massachusetts non è la legge del Nebraska né tantomeno la fuggitive slave law, ma il proprio essere servile e schiavista. Facciamo in modo che lo Stato rompa la sua unione con gli schiavisti. Potrà forse esitare o cercare una scappatoia, e chiedere il permesso di leggere ancora la Costituzione, ma non troverà nessuna legge rispettabile o precedente che gli imponga di tenere in piedi una tale unione anche solo per un altro istante. Facciamo in modo che ogni cittadino rompa la propria unione con lo Stato, finché lo Stato non compie il suo dovere. Gli eventi degli ultimi mesi mi hanno insegnato a non fidarmi della reputazione degli uomini. Ho capito che non si fonda su valutazioni meditate, ma sulle urla. Non sull'eroismo delle azioni nude e crude, ma solo sulle conseguenze apparenti. La si concede facilmente ai partecipanti del Boston Tea Party, ma non si dice nulla o quasi dei più coraggiosi e disinteressati eroi che hanno attaccato il tribunale di Boston, per il semplice fatto che questi ultimi non hanno avuto successo. Coperto di disonore, lo Stato è rimasto impassibile e ha messo sotto processo la vita e la libertà degli uomini che hanno cercato di riportarlo sulla retta via. E questa la chiamano giustizia. Coloro che si comportano particolarmente bene potrebbero a questo punto essere messi in catene per le loro buone maniere. Chi oggi sente il dovere, per restare fedele alla verità, di dichiararsi colpevole, è il più innocente tra i cittadini dello Stato. Mentre il governatore, il sindaco, e gli innumerevoli funzionari del Commonwealth sono a piede libero, i più ferventi sostenitori della libertà sono imprigionati. Solo loro sono senza colpa, quelli che hanno commesso il crimine di contestare un tribunale del genere. È compito di ogni uomo accertarsi di essere dalla parte della giustizia, i tribunali si facciano pure le loro idee. Le mie simpatie in tali questioni sono tutte a favore degli accusati e contro gli accusatori e i loro giudici. La giustizia è dolce e musicale, ma l'ingiustizia è dura e disarmonica. Il giudice sta seduto davanti al proprio organetto, ma non produce alcuna musica, e quel che sentiamo è solo il rumore della manovella. Crede che la musica sia tutta nella manovella, e la folla continua comunque a lanciargli le monetine. Voi credete che questo Massachusetts, che adesso si comporta così, che esita a omaggiare gli uomini virtuosi, e i cui avvocati e giudici possono tutt'al più essere spinti a rifugiarsi in qualche misero cavillo per non abdicare completamente al loro naturale istinto di giustizia, credete che questo Stato possa non essere servile e spregevole? Che possa essere un esempio di libertà? Mostratemi uno Stato libero, e una corte al servizio della vera giustizia, e se serve mi batterò per difenderlo, ma mi rifiuto di mostrare lealtà al Massachusetts, ed esprimo il mio disprezzo per i suoi tribunali. Un buon governo aggiunge valore alla vita, un cattivo governo lo toglie. Possiamo permetterci che una ferrovia, così come una qualsiasi altra merce, perda un po' del suo valore, si tratterebbe soltanto di vivere in modo più semplice e parsimonioso. Ma supponete che a perdere valore sia la vita stessa. Come possiamo chiedere di meno a un uomo e alla sua natura? Come si possono risparmiare la virtù e le altre qualità nobili? Ho vissuto l'ultimo mese, e credo che chiunque nel Massachusetts sia animato da un vero sentimento patriottico abbia fatto altrettanto, sentendo di aver subito una perdita enorme e irreparabile. All'inizio non capivo di cosa si trattasse. E poi ho compreso di aver perso il mio paese. Non ho mai rispettato il governo che da sempre mi è stato di fianco, ma pensavo scioccamente di poter continuare a vivere in questo Stato curandomi delle mie faccende, e dimenticandolo. Per quanto mi riguarda, ho smesso di provare lo stesso entusiasmo di prima anche per le faccende più degne di cui mi occupavo, e sento che qui il mio interesse per la vita si è in buona parte svalutato da quando il Massachusetts ha deliberatamente riconsegnato un uomo innocente, Anthony Barnes, alla schiavitù. Prima vivevo forse nell'illusione che la mia esistenza potesse scorrere sospesa tra paradiso e inferno, ma ora non riesco a non pensare di essere confinato soltanto all'inferno. La sede di quell'organizzazione politica chiamata Massachusetts mi pare moralmente coperta di magma chietrificato e cenere, come Milton descrive le regioni infernali. Se esistesse un qualche inferno con meno scrupoli di quello abitato dai nostri governanti e da noi governati, sarei curioso di vederlo. La vita in sé vale meno, e così tutte le cose che l'accompagnano e la riempiono, perdono valore. Supponete di avere una piccola libreria, con quadri ad abbellire le pareti e un giardino tutto intorno, dove tenete testi letterari, scientifici eccetera, immaginate di scoprire all'improvviso che l'edificio in cui si trova, e tutto quello che c'è dentro, è situato all'inferno, e che la giustizia su cui si fonda la vostra pace è mantenuta da un personaggio con gli zoccoli e la coda biforcuta. Improvvisamente non perderebbe tutto valore ai vostri occhi? Sento che in una certa misura lo Stato ha irrimediabilmente interferito con le mie legittime occupazioni. Non mi ha soltanto impedito di passare dalla strada del tribunale per fare una commissione di lavoro, ma ha impedito a me e a qualsiasi uomo di andare avanti o di alzare la testa, lasciandosi alle spalle il tribunale e la sua strada. Che diritto ha di farlo? Mi sono ritrovato a sprofondare su un terreno dove pensavo di poter camminare tranquillo. Sono sorpreso di vedere uomini che continuano a sbrigare i loro affari come se nulla fosse successo. Mi dico, sventurati, non hanno sentito le ultime notizie. Sono sorpreso che l'uomo a cavallo che ho appena incrociato prenda così sul serio la fuga delle vacche appena acquistate, dal momento che ogni proprietà è incerta. E anche se non dovessero fuggire di nuovo, potrebbero essergli portate via quando le riacciuffa. Sciocco! Non si rende conto che le sue sementi di grano valgono meno quest'anno, che qualunque raccolto abbondante svanirà di fronte all'impero infernale. Nessun uomo prudente vorrebbe costruire una casa di pietra solida in queste circostanze, o intraprendere qualche impresa pacifica che richieda tempi lunghi. L'arte dura in eterno, ma la vita è sempre più ferita e inadatta ai propositi di un uomo giusto. Non è un'era di quiete. Abbiamo consumato tutte le libertà ereditate. E se vogliamo salvare le nostre vite dobbiamo combattere per riprendercele. Cammino verso uno dei nostri laghi, ma che significato ha la bellezza della natura quando gli uomini sono spregevoli? Camminiamo verso l'acqua per vedere riflessa la nostra serenità, quando non siamo sereni, non ci andiamo. Chi può essere sereno in un paese in cui governanti e governati sono privi di principi? Ricordarmi del mio paese e mi rovina la camminata. Penso a colpire a morte lo Stato, e involontariamente cospiro su come organizzarmi per farlo. Ma tutto è cambiato l'altro giorno quando ho odorato una ninfea, ed è giunta la stagione che tanto attendevo. È l'emblema della purezza. Esplode chiara e immacolata davanti agli occhi, e ha un profumo tanto dolce, come se volesse mostrarci che la purezza e la dolcezza crescono nel fango e nella melma e da lì possono levarsi. Penso di aver raccolto la prima schiusa nel giro di un miglio. Che forza dà alle nostre speranze la fragranza di questo fiore. Mi fa credere che non sia il caso di disperarsi così presto per il mondo, malgrado la schiavitù, la codardia e l'assenza di principi morali degli uomini del Nord. Mi ricorda quali sono le leggi che da sempre alla fine prevalgono, e che verrà un tempo in cui le azioni degli uomini avranno lo stesso dolce profumo. Questo è l'odore delicato che la ninfea spande in aria. Se la natura può rigenerare tale fragranza una volta all'anno, devo credere che sia ancora giovane e forte, e la sua integrità e il suo genio siano rimasti intatti, e ci sia dunque purezza anche nell'uomo che è in grado di comprenderla e amarla. Mi ricorda che la natura non ha partecipato al compromesso del Missouri. Non c'è compromesso nel profumo di una ninfea. Non è una ninfea Douglasi. Nel suo fiore ciò che è dolce, immacolato e innocente resta separato dall'oscenità e dal male. La sua fragranza non odora dell'opportunistica titubanza del governatore del Massachusetts o del sindaco di Boston. Dobbiamo fare in modo che i nostri gesti contribuiscano alla dolcezza del mondo in cui viviamo, così di fronte a un fiore e al suo profumo non dovremo ogni volta ricordarci di quanto siano insignificanti, ogni odore è una forma di promessa delle qualità morali, e se non compieremo azioni giuste la ninfea non avrà il suo dolce profumo. La melma disgustosa simboleggia l'ignavia e il vizio dell'uomo, la decadenza dell'umanità, il fiore fragrante spunta da quella palude per ricordarci che la purezza e il coraggio sono immortali. La schiavitù e il servilismo non hanno prodotto stagioni di fiori dolci, che potessero incantare i sensi degli uomini, perché in loro non c'è vera vita, sono soltanto decadimento e morte, un'offesa per chiunque sia sano nel corpo e nella mente. Non c'è niente per cui protestare, ma c'è da meravigliarsi del fatto che non siano ancora stati sepolti. Lasciamo che chi è davvero vivo li sotterri, saranno almeno buoni a far dall'etame.